finalmente 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 sono usciti i preservativi di un grande creator quello più intitolato a fare un suo marchio di preservativi chi più di lui secondo te chi marco ma rubate idea e le coli no no che però belli cazzo li voglio grazie conoscitore italiano no no ho fatto un link dovevo dire allora non è stato contattato contro perché vedo meno video adesso c'è duzzo no don video patrizio non li usa quindi no don video non credo non si capisce però che tagli e spessore sono secondo me hanno anche xxxxxxxxl per dell'elefante perché ciccio gamer 89 ovviamente eccolo qui finalmente il paracadute in realtà la capocchia paguro c'aveva proprio questo preservativo il paracadute il pisello già il farapisello più che il paracadute tra l'altro io non so se questa cosa l'ho mai detta ma tipo quattro mesi fa tre quattro mesi fa non credo tre quattro mesi fa mi aveva contattato la control non la durex per una sponsorizzazione io ovviamente ho detto fatemi sapere un po' di informazioni insomma come funziona quanto mi pagate eccetera poi mi hanno costato ma hanno mandato un'email sei più famiglia control non te lo riesca a male la sponsorizzazione o più famiglia durex quello quello che mi paga ma il tuo privato quello che mi paga soltanto pagato no 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 dalle ragazze non dalle aziende cioè se mi pagano io uso il preservativo tu abbia usato i budelli d'agnello solo quelli io quelli e quando era impossibile facevo tipo dei cartoccetti cordomo pack da ragazzino davanti fai così comunque cazzate a parte la domanda la domanda colletto in chat è calzante cioè è la stessa che mi sa un posto pure io ovvero come pubblico è in target ciccio per una sponsorizzazione di questo tipo allora non conosco effettivamente l'anagrafica degli iscritti al canale youtube di ciccio da una parte la prima cosa a cui ho pensato è male non fa perché anche se non perché ridi mi ha scavato dentro è arrivato a scoprire la parola budelli di animale ci ho fatta perché per la restazione ripensavo ancora ai budelli ok fino a 15 16 anni lì ha nel senso che magari non li utilizzano adesso però già comincia a fare una sorta di lavoro se vogliamo anche di sponsorizzazione di una cosa che magari resa cool dal loro idolo può essere più sopportata perché ovviamente c'è un problema come abbiamo sempre detto di mancata informazione soprattutto in campo di prevenzione di malattie una collaborazione dove c'è la sua linea di prodotti sul marchio c'è il pacuro esatto quindi in realtà in realtà in realtà non so dal punto di vista della durex nel senso avranno valutato magari con le analitiche non so quanto possa convertire in maniera diretta però secondo me è comunque un qualcosa di positivo nel momento in cui un influencer pubblicizza un qualcosa che dovrebbe ad oggi prima dai questa informazione meglio è perché comunque l'età insomma se fa la prima volta sesso ti è abbassata tanto l'età media parecchio parecchio quindi ondevitare se loro già a 12-13 anni cominciano a sentire che esiste questa cosa se poi a 14-15-16 anni faranno sesso è stata con mano sta cosa che cosa? con i 12 anni? con i 12 anni? no hai messo un preservativo a un 12enne? eh madonna no che ne so per prevenzione no è stato con mano nel senso che parlo molto spesso con ragazzi di 13-14-15-16 e appunto mi fanno domande su questo sui budelli sui budelli il budello è ottimo pure quello del gatto ma tu che ne hai tanti sui vari slot andiamo avanti comunque andiamo avanti vediamo vediamo stai prendendo troppo da Pasolini è che è? forse di cittarlo è preso troppo sul set madonna sapete cos'è questo? Siamo a Durex abbiamo abbiamo creato il paracadute vai ciccio che per 89 potrei vincere questo pacchetto in edizione super limitata seguendo questi semplicissimi passi e ti segui al profilo TikTok di Durex commenta il video del mio pacchettino ufficiale con l'hashtag Durex Let's Go Durex se sarai fortunato ti contatterà tra potevate impegnare un po' di più Durex Let's Go tipo l'esultazione che facciamo io e Simone quando vinciamo che ne so a te che no Let's Go che tipo capito sale tu Let's Go che era su su Multiversus non stiamo ancora insieme ma lo fate pure quando fate sesso immagino alla fine quando sborriamo insieme si ah che bello let's go tu pensi a 15 anni la prima volta tu hai motivo vero per mettere in preservativo è Let's Go Let's Go mentre fai insert coin esatto quindi mi raccomando controlla mi raccomando però devi essere maggiorenne per partecipare ed è inutile che lo cercate in giro perché per adesso si può solamente vincere speriamo poi e non è in vendita speriamo poi speriamo poi speriamo poi speriamo poi si possa concretizzare di usarli questi alternativi no no in realtà è molto chiaro adesso e non l'ho visto appositamente per fare la reaction che effettivamente è abbastanza divertente non è una linea in vendita quindi semplicemente lo hanno utilizzato per le pagine social quindi ci sta cioè nel senso lui ovviamente crea interazioni sulla pagina loro andate lì mettete il commento potete vincere quindi neanche devono neanche devono diciamo comprare non sono futuri acquirenti quelli nel target di ciccio ma semplicemente persone che creeranno interazioni sui profili quello che mi chiedo si puoi vincere sta cosa ma magari non ti dice devi essere maggiorenne però secondo me molti scriveranno ugualmente anche solo per tipo grande ciccio eh poi magari si magari non vanno neanche nell'estrazione però in generale va bene per i loro profili però alla luce di questo quello che mi chiedo è ce la facciamo aprire l'instagram dei durex magari prima guardiamo ma guarda non penso sia così difficile no magari se non c'è sta qualcosa non se lo vede che ne so tipo adrian fartate ecco già questo è ban assoluto subito dalla vita no dico chissà che tipo di utilizzo fanno loro dei social se è semplicemente promozionale per i prodotti oppure se magari vista l'argomentazione fanno un po' di informazione se fanno anche questo è comunque tutta una bella operazione ottimo confettata nel modo corretto allora no le bollette da brividi migliori horror da non guardare ad halloween da non guardare nel senso che se lo fai per scopare vediamo un po' ma subito la test cinema una cosa incredibile il cassetto aveva detto di averli comprati ah vabbè vabbè sono presa per culo sete quando è finita anche l'ultima goccia no ma cos'è ultima vibrazione quando il silenzio diventa il tuo peggior incubo vabbè ragazzi insomma ok cose che temi di dire al capo ma anche a letto sono solo gag quindi non c'hanno un minimo di informazione utilizzate il preservativo ho bisogno di una pausa ok ah ok pure questo per creare interazione non posso venire esco un po' prima oggi è il mio giorno libero chiede a qualcun altro in gruppo proprio non fa per me per come ho lavorato oggi dovresti pagare la gente ne mette altre è certo Tinder Italia siamo qui da un'ora basta ma vaffanculo Tinder Italia di come sono fatti i nostri corpi rischi connessi ah vedi lezione con azione sessuale qualcosina sì informazione educazione prevenzione testa bravi 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 oddio questo dopo oh che cazzo ho chiuso ho chiuso vabbè era questo no ah no no ok questa è proprio la pagina no no ma infatti sono assolutamente hanno sviluppato tutti i paguri ha detto vedi questo è il profilo TikTok di Durex no ce ne avete chiesti in tanti ah perché il paracadute per Fortnite pensate questo tipo di paracadute sono bucati Marco tu sei un nuovo diciamo campione di Fortnite ah sì qual è l'utilità del paracadute a Fortnite eh beh quando te butti nella nell'isola no e vai a pinnacoli ma sei ma hai già qua mamma mia che plezza estrella ho fatto anche che uccide il gioco ci siamo giocati a pinnacoli ma ah perché provi a pinnacoli e ogni tanto puoi pure rischizza in alto e riapri il paracadute in che senso schizza in alto che te che capitano quando ah ecco l'asso che ci da dove schizzi na No